Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio e bentrovati in questa nuova analisi. Allora oggi parliamo di 3 cripto in particolare perché mi stavo studiando un po' il mercato. C'è Ciris, c'è Mana, ovvero Decentraland, c'è NG Coin. Sono queste 3 cripto che mi stanno, diciamo così, abbastanza stimolando la fantasia. Partiamo con Ciris CHZ che sta oggettivamente andando a rompere un livello molto importante, seppur ancora all'interno di questa zona di congestione di lungo periodo, però ci dà una certa piacevolezza nel vedere una bella candela rialzista su questi comunque minimi all'interno del rettangolo. Un po' di tempo che non vedevamo volumi così importanti, ecco questa spinta comunque rimane molto positiva. Personalmente attendo chiusura di giornata e domani valuterò il da farsi. Non sono consigli finanziari, però mi raccomando cercate di approcciare in modo corretto allo studio di questo tipo di indicazioni che il mercato ci offre. Un mercato che è ancora orientato a ribasso, che però sembra poter provare ad invertire la rutta. Vediamo un po' anche Mana, cosa sta combinando. Oggi ha fatto una giornata veramente molto molto forte, con volumi devo dire altissimi. Ieri aveva provato già a dare una sorta di indicazione a rialzo, nonostante il mercato fosse ancora bloccato in questa zona qua. Oggi invece va addirittura a rompere un livello molto importante, ovvero questo livello qua, che era una sorta di pavimento per quello che riguarda The Central Land e adesso sta oggettivamente spingendo molto forte. Aspettiamo chiusura anche in questo caso di giornata, giornata che a differenza di altri tipi cripto si sta rivelando molto positiva anche in termini di volume. Perciò ecco guardate qua, questa è una bella candela molto interessante, cerchiamo di capire come evolverà e eventualmente sfruttarla a nostro vantaggio. Per chi dovessi imparare a gestire un certo tipo di operatività, mi raccomando ragazzi, studiate, studiate, studiate. Guardate i miei video, approfondite, cercate sempre di capire quello che può essere il vostro arco temporale, perché non c'è la dritta, non stiamo qua a giocarci cavalli, ma ci deve essere sempre e comunque una strategia, perché anche il migliore ingresso, se non c'è una strategia, può essere scanzato da una brutta perdita. Quindi mi raccomando ragazzi, massima attenzione alla vostra operatività. Andiamo a vedere poi l'ultima della lista, ovvero NG Coin, eccola qua. NG Coin che è molto similarmente a Cilis, sta approvando, o meglio ha approvato e ha rotto una zona molto importante e sta provando ad arrivare a raggiungere questo livello qua, che per me è da diverse settimane, un livello molto importante, oltre il quale probabilmente rivedremo una sorta di bullrun. Ovviamente anche la bullrun non si può definire tale finché non è finita, perché comunque nessuno ha la palla di cristallo, ma sicuramente ci darà un'ottica più positiva su questo mercato e devo dire che NG Coin sta finalmente ritrovando un po' di spinta dopo una lunga fase di congestione, con questo trend laterale, ma che comunque rispecchia un po' l'andamento di tutte le cripto, che hanno avuto un crollo oggettivamente veramente vertiginoso. Insomma, per quello che riguarda la mia ottica al momento, sono molto positivo su queste tre cripto, mi raccomando, prendi appunti, cerca di studiarti una strategia che possa fare al caso tuo, e se hai difficoltà, ovviamente riguarda il tuo modo di operare. Io parlo sempre in chiave trading, per quello che riguarda invece l'ottica di un lunghissimo periodo, al momento, secondo me, siamo ancora bloccati in quella fase ribassista, quindi ecco, non festeggiamo troppo in fretta, perché ancora non siamo usciti dal tunnel dei ribassi. Però, al momento, qualcosina di interessante si sta favelando. Ragazzi, io vi auguro una buona serata, ci vediamo più tardi con le prossime analisi.